Buonasera anche da parte mia. È bello vedervi qui e poter condividere insieme stasera il tema associazione, partnership con Dio. Come al solito, vi invito a iniziare con una preghiera e chiedere a Dio di accompagnarci durante questo studio biblico. Padre nostro nel cielo, grazie perché possiamo essere qui, perché ci regali la vita e perché ora possiamo aprire la Tua parola. Vogliamo incontrarti. Vogliamo imparare da Te. Grazie perché secondo la Tua promessa sei qui con noi. Amen. Lev Tolstoi racconta di un uomo che per mille rubli desidera acquistare un terreno. Gli si dice che per quella cifra può comprare tutto il terreno che durante un giorno riesce a percorrere a piedi, con la condizione di raggiungere, entro il tramonto, il punto di partenza. Naturalmente, l'uomo cammina senza sosta, non si riposa, pensando, se mi fermassi, perderei del tempo e la distanza percorsa non sarebbe sufficiente. Quindi passo dopo passo sta aumentando il suo presunto possedimento. Riesce già a immaginarsi grande la Tifondista, in quanto il terreno percorso è molto vasto. Ma mentre il sole sta inclinandosi lentamente verso ovest, l'uomo camminando sempre più veloce desidera superare anche quel prato, quel pezzo di bosco, un altro campo. Al tramonto raggiunge il punto di partenza ed è preso da un immesso sentimento di beatitudine. Tutto il terreno ora appartiene a lui. Il racconto di Tolstoi finisce così. L'uomo, colmo di felicità, si tocca il petto e crolla sfinito a terra. La morale di questo racconto è di quanta terra ha bisogno l'uomo, di sei piedi di profondità sotto il suolo. Noi tedeschi abbiamo anche il proverbio, l'ultima camicia non ha tasche. Non si può portare nulla al di là. Quando moriamo, tutti i nostri possedimenti diventano inutili. Non portiamo nulla con noi oltre la tomba. Ecco perché sorge la domanda di cosa realmente stiamo riempiendo la nostra vita. Di cosa è fatta la nostra vita? Quali sono i nostri sogni? Cosa immaginiamo che possa veramente dare senso alla nostra vita? In molti sono alla ricerca di una vita colma. Ricercano sicurezza, benessere, salute, fortuna, successo. Cose che dovrebbero arricchire la nostra vita facendola apparire ai nostri occhi degna di essere vissuta. E intrinsecamente sono tutte cose degne di lode, non cose deleterie. Sto pensando alla salute, alla felicità, al successo, al benessere. Ma spesso tendiamo a sopravvalutarle e incominciamo a mettere all'ultimo posto le cose veramente importanti. Come criceti, saltiamo sulla ruota e ci sforziamo, ci tiriamo su, diamo il nostro meglio e spesso ci accorgiamo troppo tardi di essere in realtà prigionieri dei propri obiettivi. E poi, mentre ambiamo la fortuna, ci sentiamo vissuti, ci sentiamo stressati, deperiti. Quindi, cerchiamo di dare un senso alla nostra vita e certe volte, forse, pensiamo di averlo trovato nel lavoro, quando abbiamo successo, quando tutti ci ammirano e si accorgono dei nostri progressi. Ma spesso stiamo alla larga dalla domanda, da cosa dipende veramente la nostra vita? Non è per caso che ci concentriamo così tanto sul possedere che dimentichiamo di essere felici? Se fate caso, guardando la pubblicità, è proprio essa a cercarci di suggerire, di inculcarci questi pensieri. Quando possiederai questo, quando guiderai quest'auto, allora sarà importante. Quando userai questo detersivo, la tua famiglia sarà felice di avere la biancheria pulita e così profumatamente morbida. Quando ti metterai questo profumo, allora tutte le donne cadranno ai tuoi piedi. L'idea inculcata è che se possiedi la cosa giusta, se usi la cosa appropriata, allora troverai il senso, allora diventerai veramente felice e sarai qualcuno. E naturalmente le persone desiderano. Essere felici Normalmente vogliono vivere in modo sensato e godersi la propria vita. Ma da cosa dipende veramente? Può essere che a volte sopravvalutiamo le nostre possibilità ed esse ci portano a situazioni che avremmo voluto evitare. Penso a una trasmissione televisiva che parla di persone che vivono di prestiti. Prendi il telefonino che paghi a rate, forse anche la macchina, forse anche il computer nuovo, la nuova telecamera, tutto quello che si deve avere per forza per essere in e la trappola dei debiti all'improvviso scatta. E prima o poi si raggiunge l'obiettivo. Banca rotta. E poi c'è gente giovane di 21-22 anni che deve annunciare l'insolvenza perché ha vissuto al di sopra delle proprie possibilità pensando ho bisogno di questo, di quello, dell'altro, non posso fare a meno e comunque posso pagare tutto in piccole rate. E non ci si accorge che di poco a poco si sono addentrati sempre più profondamente in questa palude di debiti dove poi si resta bloccati. Cosa dice la Bibbia sul nostro stile di vita? Cosa ha da dirci la parola di Dio su come dobbiamo gestire la nostra vita secondo Dio? Dio non ha semplicemente creato la terra e l'uomo per poi abbandonarli a se stessi ma ci ha pure mostrato come vivere la nostra vita con successo. E in questa serie di conferenze abbiamo scoperto che Dio desidera aiutarci a vivere una vita veramente colma a trovare la vera vita che non debba essere scambiata con delle imitazioni scadenti ma che si possa veramente definire come vita. Abbiamo visto che Dio ci vuole offrire una vita piena di senso e una relazione stretta con Lui. Siccome Egli è il creatore della vita per chi è l'inventore per chi è l'inventore della vita sa anche di cosa abbiamo bisogno per avere una comunione sempre più profonda con Lui per poter gestire la nostra vita in modo da vivere ogni giorno con questa con questa sicurezza di essere sulla giusta strada che la nostra vita abbia un senso. Non si tratta solamente di sognare la fortuna di possedere quante più cose nella vita si tratta di darle un vero senso. Lui desidera che seguiamo i Suoi consigli praticamente ogni giorno. Ricordate che nel principio quando Dio creò tutte le cose quando chiamò a vita con amore questo mondo quando creò le persone e tutto ciò che ci circonda guardando il risultato finale disse è molto buono. Tutto era diventato esattamente come Lui aveva desiderato e poi al sesto giorno della creazione quando tutto era già finito stava per iniziare il sabato. Diede all'uomo un compito speciale. Avrei piacere di leggere insieme a voi questo nella Bibbia. Anche questa sera abbiamo alcune Bibbie per i visitatori per gli ospiti che non ne possiedono una. Se avete una Bibbia a casa vi consiglio di portarla altrimenti se non l'aveste qui ci sono alcune Bibbie alzate le mani e qualcuno vi porterà le Bibbie che servono. Grazie. Genesi proprio all'inizio della Bibbia. Genesi capitolo 1 i versetti da 26 a 28 qui leggiamo poi Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza e abbia dominio sui pesci del mare sugli uccelli del cielo sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine lo creò a immagine di Dio li creò maschio e femmina e Dio li benedisse e Dio disse loro siate fruttiferi e moltiplicatevi riempite la terra e soggiogatela e dominate sui pesci del mare sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Per la prima volta qui nella Bibbia troviamo il concetto di amministrazione. Vuol dire che Dio si fida della sua creazione di quello che ha creato si fida della sua proprietà dell'uomo e dice ecco padroneggiate sulla terra e sugli animali regnate su di loro. Purtroppo nella storia questo concetto è stato frainteso. Le persone hanno pensato che soggiogare la terra regnare sulla terra e sul creato voglia dire sfruttarla distruggerla tiranneggiarla ma nel pensiero ebraico il dominio e la cura stanno indivisibilmente insieme. Quindi quando Dio dice soggiogatela regnate su di essa in fin dei conti non chiede altro che regnare come suoi rappresentanti in base alla sua volontà. Chiede di trattare il creato come sua proprietà in modo che egli possa approvare questo atteggiamento. In Salmi 24 leggiamo All'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa il mondo e i suoi abitanti. Qui viene sottolineato nuovamente il pensiero che Dio è il proprietario l'uomo voi e io gli amministratori siamo amministratori perché tutto il mondo appartiene a Dio lo abbiamo appena visto perché egli è il creatore perché lui ha per così dire il brevetto d'invenzione sulla vita appartiene a lui tutto il mondo è suo tutto quello che il mondo contiene io e voi apparteniamo a lui perché è stato lui a donarci la vita lui l'ha inventata lui ce l'ha donata e ci invita ad amministrarla secondo la sua volontà in Deuteronomio 8 c'è scritto ma ricordati dell'Eterno il tuo Dio perché è lui che ti dà la forza per acquistare ricchezze per mantenere il patto che giurò ai tuoi padri come è oggi vuol dire che senza la benedizione di Dio sulla salute sulla forza sull'intelligenza non saremmo in grado di ottenere alcuna cosa guardata in quest'ottica ogni cosa ogni nostro possedimento tutto quello che abbiamo è da attribuire a Dio superficialmente sembrerebbe che il nostro successo i nostri possedimenti i nostri guadagni siano risultato del nostro impegno e della nostra pazienza ma in fin dei conti tutto è riconducibile alla vita che è dono di Dio ecco il motivo per cui siamo responsabili rispondiamo davanti a Dio per quello che ci mette a disposizione lui è il proprietario noi siamo gli amministratori tutto quello che siamo e abbiamo viene da Dio lui è il proprietario noi siamo gli amministratori in ogni campo la vita viene da Dio l'abbiamo appena visto egli ci dona la vita il nostro corpo viene da Dio non apparteniamo a noi stessi domani mattina nel sermone continueremo a riflettere sul significato di appartenere a Dio e come possiamo vivere la nostra vita secondo la sua immagine Dio nella sua parola dice che i figli sono un dono del Signore anche il tempo viene da Dio ognuno di noi ha ricevuto in regalo da Dio il tempo stranamente tutti godiamo dello stesso tempo o no tutti abbiamo 24 ore in un giorno proprio tutti i giorni nessuno può dire oh io parto svantaggiato o solo 22 ore no ognuno ha la stessa misura di tempo ed è responsabile di come sfrutta quel tempo quello che possediamo appartiene a Dio l'abbiamo appena letto i talenti e le capacità con cui Dio ci attrezza appartengono a Dio il Vangelo la buona novella della redenzione appartiene a Dio siamo responsabili di cosa ne facciamo la proprietà che Dio ha affidato a noi uomini ci chiama alla responsabilità alla riflessioni su come possiamo trattare ciò che Dio ci ha affidato quello che Dio ci ha donato nella nostra vita in modo da essere degni di questo in Romani 12 e il versetto 1 c'è scritto vi esorto dunque fratelli per le compassioni di Dio a presentare i vostri corpi il chi ha il vostro ragionevole servizio quale sacrificio vivente santo e accettevole a Dio quando riceviamo nel cuore l'amore di Dio allora possiamo rispondere volentieri a questo amore di Dio e gli ha dato tutto per noi abbiamo imparato abbiamo già studiato nelle conferenze precedenti che ha dato tutto per permetterci di riavere il cielo ha investito tutto per noi affinché potessimo vivere potessimo vivere eternamente in un mondo in cui conviene veramente vivere e non l'ha fatto per dovere nemmeno perché ne aveva bisogno lo ha fatto per l'amore che prova verso ognuno di noi per benedirci e per portare ognuno di noi ad avere una vita abbondante lui ci vuole aiutare Dio vuole far sì che la nostra vita che noi stessi non siamo più condizionati dall'egoismo non veniamo più spinti dai propri desideri egoistici vuole che non percepiamo solamente le nostre esigenze dicendo se sto bene io va tutto bene o come il detto se tutti pensano a loro stessi abbiamo pensato a tutti oppure tutti pensano a loro stessi solo io penso a me della serie io 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 si parla solo di me Dio ci vuole allargare gli orizzonti e farci vedere che nella partnership con lui con Dio si tratta molto di più che solamente di noi stessi vuole allontanare il nostro sguardo dall'egoismo lontano come si era espresso Lutero dal rivolgersi verso noi stessi allargare lo sguardo verso le altre persone ci vuole aiutare a diventare in quanto amministratori una benedizione per altre persone anche per questo abbiamo il buon esempio della vita di Gesù negli atti degli apostoli leggiamo Gesù di Nazareth il quale andò attorno facendo del bene e sanando tutti significa che anche Gesù ha praticato il principio dell'amministrazione non ha tenuto per sé i buoni doni di Dio non li ha usati per se stesso ma per diventare una benedizione per gli altri grazie a ciò che Dio gli aveva affidato abbiamo visto che siamo amministratori di tutto ciò che compone l'essere umano vuol dire corpo anima e spirito abbiamo già visto che l'uomo è un'unità di corpo anima e spirito e che queste tre aree della nostra esistenza interagiscono tra di loro per quanto riguarda il corpo abbiamo già visto insieme alcuni concetti e dei consigli sulla salute e come ho già detto domani mattina approfondiremo questo tema ma non si tratta solo di rendicontare ciò che entra tramite la nostra bocca di come trattiamo o maltrattiamo il nostro corpo ma si tratta compreso l'essere umano nella sua completezza come unità indivisibile tra corpo anima e spirito si tratta anche di cosa lascio penetrare qui tramite gli occhi tramite le orecchie cosa nutre i miei pensieri i miei sentimenti come può essere influenzato il mio intelletto la mia fede come posso utilizzare i doni ricevuti da Dio dobbiamo vivere la nostra completezza per la gloria di Dio vuol dire che in tutti gli aspetti in ogni ambito della mia vita devo considerare il mio essere di sua proprietà e trattare la sua proprietà in modo responsabile ho una bicicletta molto bella per le mie esigenze va bene è preziosa e io vado molto volentieri in bicicletta se prestassi la mia bici a un amico che mi chiede ehi mi potresti prestare la tua bicicletta mi serve per recarmi in diversi posti io rispondo va bene se ti serve prendi la mia bici e vai e questo torna il giorno dopo con la mia bici ma non posso credere ai miei occhi il faro davanti manca dietro è completamente distrutta la verniciatura raschiata il cambio delle marce frantumato come pensate che potrei reagire sicuramente non me ne rallegrerei non farei finta di niente gli chiederei cosa gli è saltato in mente cosa ha fatto con la mia bicicletta non appartiene a lui non può trattarla come un oggetto privo di valore a volte forse Dio si sente proprio così ci dice ecco ti dono la vita te la regalo tutto viene da me è di mia proprietà trattala con cura e spesso noi non trattiamo per niente con cura le cose che Dio ci offre e a volte tornando alla nostra illustrazione il cambio delle marce è frantumato e Dio ci chiede ehi cosa hai combinato ma la buona notizia è che Dio non dice allora per il risarcimento dei danni devi fare questo e questo e questo e gli dice vogliamo ripararla insieme dai prendiamoci del tempo e risistemiamola è questo l'argomento di stasera parlando dell'amministrazione della partnership con Dio nella Bibbia troviamo un principio importante in Colossesi 3 e qualunque cosa facciate in parola o in opera fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui quindi dobbiamo vivere in modo da avere l'approvazione di Dio dobbiamo conoscere la volontà di Dio dobbiamo chiedergli Dio in che modo immagini tu la mia vita come vuoi tu che io viva qual è la tua volontà per la mia vita nell'ambito delle mie relazioni qual è la tua volontà nella mia vita per quello che riguarda il mio tempo qual è la tua volontà nella mia vita nell'ambito dei miei guadagni Dio ha un piano per tutti gli aspetti della nostra vita non per vincolarci ma per procurarci una vita di cui poter dire sì ho trovato la mia strada ora sto veramente progredendo e riconosco che Dio mi elargisce le sue benedizioni e io posso essere una benedizione per gli altri in secondo corinzi 5 leggiamo e che egli è morto per tutti e si riferisce a Gesù affinché quelli che vivono non vivano più d'ora in avanti per se stessi ma per colui che è morto ed è resuscitato per loro significa che un seguace di Gesù non vive più per se stesso non vive solo per realizzare se stesso piuttosto vive per Dio e per la sua missione le priorità cambiano ricevo una nuova direzione e divento consapevole di non appartenere a me stesso voglio vivere la mia vita per la gloria e per l'onore di Dio secondo il suo volere se vivere secondo la volontà di Dio non mi fa piacere non mi dà gioia allora penso che non ho ancora capito quanto Dio mi ami e cosa Lui abbia fatto per me cosa abbia donato per me allora effettivamente sono concentrato solo sulla mia agenda e penso che io debba fare tutto per poter essere contento perché io 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 possa soddisfare le mie necessità ma Dio dice ehi allarga il tuo orizzonte apri gli occhi e guarda cosa ti voglio dare accetta la mia proposta associati con me perché io ti possa portare ad avere una vita abbondante e non solo questa vita di routine analizziamo due aspetti pratici tempo e proprietà e domani come già detto ne analizzeremo un terzo il corpo dice il Salmo 90 insegnaci dunque a contare i nostri giorni per ottenere un cuore sabio Dio ci regala il tempo della vita cosa facciamo con la nostra vita ho sentito di un istituto di un corso di formazione manageriale penso che questo avvenga spesso dove i manager lavorano per 60 70 ore sono pienamente immersi nel loro lavoro ma prima o poi ci si deve confrontare con la domanda cosa bisognerà scrivere sulla tua lapide può sembrare scioccante ma cosa dovrà essere inciso sulla tua lapide hai mai pensato a questo? cosa bisognerà incidere sulla tua lapide? magari vi è capitato di passeggiare in un cimitero e osservare le diverse lapidi io a volte lo faccio leggo quello che vi è scritto ma cosa cosa scriveresti se potessi scegliere cosa vorresti avere inciso sulla tua lapide una frase come il lavoro era tutta la sua vita? forse qualcosa del genere? oppure un'altra domanda che viene fatta in questo contesto cosa diranno i tuoi figli a proposito della tua vita quando non ci sarai più? pensando alla tua vita diranno mio padre o mia madre puntini puntini mio padre non aveva mai tempo il lavoro lo assorbiva completamente io ero sempre da qualche parte nell'ombra poi penso che in fin di vita nessuno esprima il rammarico se mi fossi fermato di più in ufficio se solo avessi speso più tempo in ufficio sul posto di lavoro se solo avessi lavorato più intensamente quando pensiamo alla morte ed è su questo che il versetto biblico vuole farci riflettere questo ci aiuta a pensare più chiaramente e a focalizzarci su come riempire la nostra vita renderci consapevoli su quanto la nostra vita sia breve e la nostra vita è veramente breve in confronto all'eternità nella bibbia ci ha scritto che le persone vivono fino a 70 80 anni dunque io ho già superato la metà della mia vita solo che quando si è giovani spesso non si pensa a questo come voglio riempire la mia vita come voglio trascorrere la vita che Dio mi dona così che non si tratti solo di me ma che possa diventare una benedizione anche per gli altri nel suo sermone sul monte Gesù ci dà questa indicazione questo consiglio ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte per le cose alle quali teniamo davvero abbiamo tempo è vero per quello che consideriamo davvero importante troviamo tempo e quando sento le persone dire non ho tempo so che nella maggior parte dei casi si tratta di una scusa ingannevole perché tutte le persone come ho già detto tutte le persone dispongono dello stesso tempo in realtà quando qualcuno dice non ho tempo vuole dire ora ho delle cose più importanti rispetto a questo ho organizzato le mie priorità diversamente oppure anche semplicemente non mi va di fare questo ma Gesù qui ci fa una promessa fenomenale dice cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte quindi anche per quanto riguarda il mio tempo nella scelta delle priorità della mia vita devo tenere conto di cosa serve al regno di Dio e mettere lui al primo posto ed egli ci promette che riceveremo tutto quello che ci serve solo che a volte quello che io penso che sia necessario nella mia vita e quello che pensa Dio è molto diverso magari succede anche a voi Dio vuole aiutarci a capire chiaramente quali sono le cose da cui dipende la nostra vita e vuole aiutarci a considerare il nostro tempo secondo la sua volontà certamente stasera non intendo tenervi una conferenza di management oppure un corso di formazione sulla gestione del tempo ma Dio lancia un segnale fai attenzione il tempo che ti offro il tempo che ti affido va usato in modo da poter dire alla fine della tua vita sì ho agito nel modo giusto ho vissuto in modo sensato non ho ricercato la fortuna non sono andato a caccia di ricchezze nella mia vita Dio è stato al primo posto è stato lui a guidarmi e a mostrarmi come poter utilizzare il tempo in modo sensato non solo per me stesso ma anche per gli altri ricordate che egli ci ha fatto anche un dono speciale che abbiamo già visto il sabato il settimo giorno nella settimana alla fine della settimana creativa Dio si riposò benedisse e santificò questo giorno lui ci ricorda ogni settimana del suo giorno speciale il giorno consacrato a lui la settima parte del nostro tempo che egli desidera che noi usiamo per riposare Gesù ci invita a una festa meravigliosa ogni settimana ogni sabato è la festa della comunione con lui e con tutti i suoi figli osservando il sabato celebrando il sabato santificando il sabato settimana dopo settimana ogni volta sempre più acquisto la consapevolezza che lui è il vero proprietario il creatore di tutto che a lui appartiene tutto inclusa la mia vita e che io sono solo l'amministratore il sabato mi aiuta a comprendere con chiarezza le priorità della mia vita crea un equilibrio tra attività e riposo il secondo aspetto riguarda le nostre proprietà che dobbiamo amministrare in secondo corinzi 9 il versetto 6 leggiamo chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente e chi semina generosamente mieterà altresì abbondantemente ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore non di malavoglia né per forza perché Dio ama un donatore allegro come dobbiamo trattare le nostre proprietà Gesù dice anzi fatevi tesori in cielo dove né tignola né ruggine consumano perché dov'è il vostro tesoro là sarà anche il vostro cuore la banca di Dio offre i migliori interessi e le migliori rendite sorge dunque la domanda come posso accumulare tesori in cielo come posso trasferire qualcosa lì nel mio home banking non ho mai trovato un pulsante bonifico per la banca celestiale conferma trasferimento effettuato no per avere un tesoro in cielo devo vivere secondo i principi di Dio e devo vivere per gli altri succede quando condivido con gli altri le benedizioni ricevute quando non trattengo tutto per me ma sono un canale per le benedizioni di Dio perché egli possa far scorrere le sue benedizioni per gli altri tramite me in questo modo il mio tesoro nel cielo potrà aumentare Gesù racconta una parabola di un contadino di una di un agricoltore che ebbe una raccolta particolarmente ricca e dunque si chiedeva ora come faccio dove posso conservare tutto il raccolto e subito ebbe un'ottima idea e disse questo farò demolirò i miei granai e ne costruirò di più grandi dove riporrò tutti i miei raccolti e i miei beni poi dirò all'anima mia anima tu hai molti bene riposti per molti anni riposati mangia bevi e godi e poi ci ha scritto stolto questa stessa notte l'anima tua ti sarà ridomandata e di chi saranno le cose che tu hai preparato Gesù riassume la morale di questo racconto e alla fine della parabola dice così avviene a chi accumula tesori per sé e non è ricco verso Dio a cosa serve tutta la ricchezza se si perde di vista Dio a nulla se si perde di vista la vera vita è inutile avere in banca un conto ricco in un altro contesto Gesù si era espresso così che giova infatti all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la propria anima a cosa servono i tuoi possedimenti se poi arrivato alla fine della tua vita non hai raggiunto nulla hai perso di vista l'obiettivo a cosa servono tutte le tue proprietà il tuo desiderio di felicità la tua ambizione per il guadagno se poi durante la tua vita non hai vissuto in partnership con Dio così come lui aveva previsto a cosa serve a nulla dice Gesù è difficile per un ricco entrare nel regno dei cieli forse ti sei già chiesto in che modo posso ringraziare Dio per la sua benedizione come posso dire grazie per tutto quello che ha fatto per me nella Bibbia troviamo la storia di un giovane uomo di nome Giacobbe questo giovane uomo è un fuggitivo perché teme per la sua vita perché ha fatto cose veramente gravi ha tradito suo fratello ha tradito anche suo padre e siccome viene a sapere che suo fratello il suo stesso fratello lo vuole uccidere fugge e nel suo vagare in un paese lontano una sera quando diventa buio si trova un luogo per riposare appoggia la testa su una pietra e prova ad addormentarsi è molto preoccupato per il suo avvenire si sta chiedendo in che modo deve continuare a vivere che senso ha la sua vita senza famiglia con il peso della colpa che ne sarà di lui si chiede se è stato abbandonato persino da Dio si chiede perché ha fallito in quel modo perché è caduto tanto in basso è proprio lì quella notte Dio mostra un sogno al giovane Giacobbe gli fa vedere una scala che dal cielo arriva a appoggiare sulla terra e su questa scala scendono e salgono degli angeli per assicurarlo della vicinanza di Dio e sente la voce di Dio che gli dice ed ecco io sono con te e ti proteggerò dovunque andrai e ti ricondurrò in questo paese poiché non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto ricevere la conferma dell'avvicinanza di Dio la conferma di non essere stato abbandonato nonostante i problemi che Giacobbe aveva creato fa riconquistare al giovane la terra sotto i piedi riesce ad avere una nuova prospettiva della sua vita Dio c'è e la mattina successiva appena sveglio Giacobbe può prendere nuove decisioni leggiamo e questa pietra che ho eretto come stele sarà la casa di Dio e di tutto quello che tu mi darai io ti darò la decima decide che il suo ringraziamento per il Dio che non lo abbandona che continua a guidarlo che mantiene le sue promesse deve essere espresso in modo speciale laddove Dio gli è apparso costruisce una casa per Dio e decide di offrire la decima parte di tutto ciò che possiede la stessa domanda tormentava pure Davide lui diceva che darò all'Eterno in cambio di tutti i benefici che mi ha fatto ti sei mai posto questa domanda come ringraziare il Signore per tutto il bene che mi ha fatto spesso la direzione del nostro dialogo è diversa non abbiamo un pensiero di ringraziamento tutto è scontato spesso quello che diciamo a Dio è una richiesta una nostra esigenza una famosa canzone di Manfred Siebold inizia così che io vivo qui qui dove c'è il pane e nulli fuori dove ora c'è la miseria ho sempre riflettuto su questo e poi dice non è ingiusto ma è ingiusto io vivo qui dove sto bene e gli altri devono soffrire Dio perché spesso lo si chiede al contrario solo quando si soffre ci si chiede Dio perché ma alla Bibbia la parola di Dio ci consiglia di riflettere sulla modalità di esprimere la gratitudine verso Dio su come poter rispondere alle benedizioni che Egli ci offre il nostro tema di stasera il titolo già annunciato è associarsi con Dio Dio desidera benedire i suoi figli affinché gli altri possano ricevere la benedizione tramite loro è in questo senso che noi siamo soci in affari con Dio siamo i suoi rappresentanti sul campo per vendere tra virgolette il prodotto quello che Lui ci dona ad altre persone Lui ci colma di benedizioni affinché possiamo trasmettere a piene mani ciò che riceviamo agli altri e potete starne certi che se accettate questa partnership con Dio la vostra vita cambierà cambierà in meglio la vostra relazione con Dio acquisterà qualità ma praticamente cosa succede? ecco alcuni passi offri a Dio il primo e il miglior posto nella tua vita la gratitudine è la chiave per comprendere questa partnership con Dio quello che faccio è solo una risposta a quello che Dio ha già fatto se io gli offro il primo e il miglior posto nella mia vita allora non si tratta di un atto di generosità da parte mia nei confronti di Dio siccome è Dio che offre che mi fa dei regali io posso dire solo grazie 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 infinite ti voglio ringraziare con tutto il mio essere per favore sii tu il Signore della mia vita quindi mettere Dio al primo posto nella nostra vita non ha a che fare con la nostra generosità ma è una risposta una reazione al suo amore non diventiamo soci alla pari perché Dio ha bisogno di noi Dio non ha bisogno di me e nemmeno di voi a Dio non serve niente so che potrebbe spiazzarvi ma è così in più se parliamo di una partnership con Dio significa che mi tratta alla pari che siamo soci alla pari posso dire ehi partner ora siamo soci quando Dio ci offre tutto e ci chiede vuoi appartenere a me vuoi essere il mio socio vuoi essere un canale di benedizione per gli altri io posso rispondere certo meraviglioso se vivo così questa relazione questa partnership con Dio comprendo sempre più profondamente più ampliamente cosa significa vivere con Dio e scopro nuove benedizioni per la mia vita sempre di più lui mi elargisce i suoi doni e mi vuole portare nella sua corrente di benedizione affinché possa trasmettere agli altri le sue benedizioni tramite me Matteo 6 dice nessuno può servire a due padroni perché odierà l'uno e amerà l'altro oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro voi non potete servire a Dio e a mammona Dio vuole che apparteniamo a lui senza riserve e che prendiamo sul serio che riconosciamo la sua autorità sulla nostra vita egli ci aiuta mi aiuta a essere corretto e a seguire il vero Signore a non farmi perdere il binario a non farmi coinvolgere da tante preoccupazioni e impegni da perdere di vista Dio lui mi chiede di decidere di mettere lui al primo posto nella mia vita affinché gli altri tramite il mio esempio possano trovare il giusto orientamento per la loro vita dunque il secondo punto in questa partnership con Dio è vivere la parola di Dio in tutti gli aspetti della tua vita non posso vivere questa partnership come una lotteria questo mi piace questo no questo lo faccio questo no in tutti gli aspetti della mia vita quando sono davvero convinto che Dio mi ama che ha davvero delle buone intenzioni nei miei confronti allora mi fido di tutte le cose che lui mi dice e cerco di realizzarle perché so che avranno successo in proverbi 3 c'è scritto figlio mio non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei comandamenti perché ti aggiungeranno lunghi giorni anni di vita e pace è una promessa una promessa di Dio che posso prendere in considerazione e in Matteo 5 leggiamo ma io vi dico amate i vostri nemici benedite coloro che vi maledicono fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano una richiesta di Dio mi raccomando dice mettetelo in pratica sarà facile? sicuramente perché sarà facile? perché non lo dovete fare con le forze proprie non dovete pensare oh Gesù lo ha comandato nel sermone sul monte ama i tuoi nemici certo aspetta un attimo ora mi devo impegnare devo darmi da fare devo amare i miei nemici devo sforzarmi poi torno e dico signore non ce l'ho fatta Gesù risponderebbe non puoi neanche farcela da solo per conto tuo non ce la potrai mai fare e a volte ho l'impressione che ricadiamo in questo pericolo dicendo Dio pretende qualcosa da noi dunque dobbiamo essere disponibili dobbiamo eseguire dobbiamo accontentarlo in qualunque modo ma il Vangelo non dice così questa non è la buona novella che Dio ci trasmette nella sua parola non siamo per conto nostro Dio non dice solo così immagino la tua vita ma dice anche ti darò io la forza perché tu possa mettere in pratica quello che io immagino per la tua vita dobbiamo comprendere che nello stesso tempo in cui Dio ci chiede qualcosa ci dà un comandamento ci offre anche la possibilità di metterlo in pratica insieme a tutto il resto la mia parte consiste nel metterci la volontà e dire ho scelto questo scelgo di fare quello che Dio mi chiede e quando faccio il primo passo quando inizio a camminare Dio dice certo ora ti darò anche la mia forza in una delle nostre prossime conferenze vedremo in cosa consiste effettivamente questa forza vuol dire che dobbiamo metterci a disposizione e prendere la decisione di proseguire pienamente fiduciosi nelle promesse di Dio il terzo punto in questa associazione con Dio è sei sincero sempre anche se apparentemente questo ti mette in condizione è svantaggiata sincero anche verso te stesso a volte mentiamo a noi stessi a volte proviamo a trovare scuse e diciamo sì ma Dio non è poi così tanto rigido e non ci rendiamo conto di ingannare noi stessi di mentire a noi stessi perché se ci allontaniamo anche poco da quello che Dio richiede allora danneggiamo noi stessi ed è controproducente la domanda qui è agisco secondo dei principi o adatto la mia etica alle situazioni per fare un esempio sono un rappresentante commerciale di una grande azienda e vado in casa delle persone a vendere un prodotto pur di vendere di aiutare le persone a comprare sono disposto a dire delle falsità ma no non sono vere falsità ma solo un aiutino per poter vendere falsità disonestà se voglio mettere in pratica i principi di Dio nella mia vita allora questo diventa molto importante decidere di voler vivere secondo la volontà di Dio in tutte le aree della mia vita sia che questo mi porti dei vantaggi sia che io vada in perdita ha qualcosa a che fare con la parola integrità essere veri vivere sinceramente quello che dico quello che dico di essere in tutti gli aspetti e in tutte le situazioni della mia vita solo allora Dio potrà provare solo allora Dio sarà contento di essere il mio socio Dio non pensa che quando si presenta la situazione giusta quando una bugia ti può essere utile allora usare scorciatoie e andare oltre la verità lui esige se vuoi collaborare con lui si aspetta che tu sia sempre sincero e che rappresenti il suo carattere nella tua vita affinché le persone possano conoscerlo così come lui è leggiamo ancora un testo dei proverbi ottenere tesori con lingua bugiarda è un vapore fugace di chi cerca la morte la violenza degli empi li porterà via perché rifiutano di praticare la giustizia il quarto punto è restituisci il meglio del tuo guadagno a Dio questa sera arriviamo a un punto molto delicato penso che conosciate il proverbio che recita con i soldi l'amicizia finisce lì finisce il divertimento quando si tratta del mio portafoglio allora chiedo a Dio di trovarsi un altro socio ma con Dio le cose non stanno così lui ha pronte speciali benedizioni per chi anche in questo ambito economico desidera vivere in partnership con lui vediamo quello che Dio dice qui ogni decima della terra sia dei prodotti del suolo che dei frutti degli alberi appartiene all'eterno è cosa consacrata all'eterno gli ebrei dovevano fedelmente portare la decima parte del loro guadagno al tempio di Dio questa decima parte era destinata a finanziare il mantenimento dei sacerdoti e dei leviti impegnati nel tempio nel tabernacolo a tempo pieno per Dio affinché loro potessero avere il necessario per la loro sussistenza interessante che troviamo la decima anche nel nuovo testamento Gesù stesso ne sta parlando in relazione agli scribi dice guai a voi scribi e farisei ipocriti perché calcolate la decima della menta della neto e del comino e trascurate le cose più importanti della legge il giudizio la misericordia e la fede queste cose bisogna praticare senza trascurare le altre vuol dire che Gesù stesso ha praticato il principio della decima e ha insegnato che forma e contenuto devono corrispondere che non si eliminano a vicenda dunque i farisei e gli scribi avevano decimato addirittura le spezie come la neto e la menta ne davano la decima parte e Gesù dice loro qui siete talmente scrupolosi prendete la decima talmente sul serio dimenticate tralasciate la parte più importante della legge ovvero la misericordia la fede la giustizia e poi Gesù continua queste cose bisogna praticare senza trascurare le altre non scarta un principio con l'altro sia l'uno che l'altro vanno praticati confermando il principio della decima vorrei leggere insieme a voi un versetto dell'antico testamento nell'ultimo libro della bibbia del profeta malachia qui si parla ancora della decima malachia 3 i versetti da 6 a 10 l'ultimo libro l'ultima pagina dell'antico testamento lì c'è scritto io sono l'eterno non muto perciò voi o figli di Giacobbe non siete consumati fin dai giorni dei vostri padri vi siete allontanati dai miei statuti e non li avete osservati tornate a me e io tornerò a voi dice l'eterno degli eserciti ma voi dite in che cosa dobbiamo tornare un uomo deruberà Dio eppure voi mi derubate e poi dite in che cosa ti abbiamo derubato nelle decime e nelle offerte voi siete colpiti di maledizione perché mi derubate sì tutta quanta la nazione portate tutte le decime alla casa del tesoro perché vi sia cibo nella mia casa e poi mettetemi alla prova in questo dice l'eterno degli eserciti se io non vi aprirò le cateratte del cielo e non vi riverserò su di voi tanta benedizione ci fermiamo qui interessante questo testo biblico è l'unico in tutta la Bibbia in cui Dio ci esorta a metterlo alla prova lui dice sfidatemi mettetemi alla prova viviamo in società praticate ciò che vi sto chiedendo restituite la decima parte di ogni vostro guadagno provate e la vostra vita sarà colma di benedizioni qui dice non è un'opzione non potete decidere liberamente se volete o no restituire la decima Dio dice che è un principio e ci esorta a metterlo alla prova a dire sì signore ci provo lo metto in pratica voglio sfidarti e fare la tua volontà nella mia vita sono curioso in che modo questa associazione con te il fatto di fidarmi di te diventerà una benedizione anche in questo aspetto della mia vita la matematica di Dio è molto diversa da quella che ci insegnano a scuola per lui il 90% con la benedizione di Dio vale più del 100% senza la benedizione di Dio con questo certamente non dico che le benedizioni di Dio si manifestano soltanto materialmente non vuol dire che se oggi decido di restituire la decima alla fine del mese all'improvviso mi troverò più soldi sul conto la benedizione di Dio non si manifesta solo in cose materiali ma anche in cose spirituali pace tranquillità speranza tutte queste cose attraverso la decima Dio ci offre la possibilità di esprimere la nostra fedeltà e la nostra gratitudine ha Dio bisogno dei nostri soldi? no certamente no Dio non ha bisogno dei nostri soldi se ci chiede di restituire la decima lo fa per poterci benedire in questo modo in cosa consiste la benedizione di Dio attraverso la decima posso esprimere la mia gratitudine nei confronti di Dio ho la possibilità di mostrargli il mio amore mentre ammetto che Lui è Signore di tutto che ogni cosa gli appartiene e restituisco solo una piccola parte di quello che in ogni caso appartiene a Lui la decima è importante anche per la predicazione del Vangelo è un grande privilegio per noi poter partecipare alla grande opera di Dio quella di far conoscere il suo Vangelo a tutto il mondo non solo attraverso la testimonianza di come lo abbiamo conosciuto di come Egli abbia cambiato la nostra vita Lui vuole farci partecipi anche nell'ambito economico quando offro la decima mi identifico con l'opera di Dio e con il suo popolo ripeto Dio non ha bisogno dei nostri soldi a Lui appartiene tutto in ogni caso non posso dire ecco siccome sono generoso ho pensato di darti questo piuttosto è qualcosa che Dio elargisce è la benedizione di poterlo ringraziare questa benedizione si può moltiplicare attraverso la partnership con Dio ed è anche ovviamente una protezione contro l'avarizia ho vissuto questa esperienza nella mia vita ero ancora studente stavo studiando teologia quando misi su famiglia avevamo due figli e potete immaginare com'è studiare e di non disporre di tanto denaro per la sopravvivenza per una serie di circostanze la nostra famiglia composta da quattro persone aveva a disposizione una certa somma di cui poter vivere e poterci chiedere se non dessimo la decima quante cose potremmo fare con quei soldi che progetti potremmo realizzare ma per me e mia moglie era fuori questione abbiamo sempre pensato che quei soldi in realtà non ci appartenessero ma fossero di dio non avremmo potuto e nemmeno voluto usarli per i nostri bisogni in quanto erano da restituire per l'opera di dio per poter esprimere la nostra gratitudine per il modo in cui egli provvede volevamo esprimere così la nostra dipendenza da lui e il fatto che tutto ciò che abbiamo proviene da lui questa dipendenza da dio questa partnership vissuta con dio è qualcosa di molto pratico in cui ognuno di noi se ci prova può fare delle meravigliose esperienze naturalmente se non lo provi non lo puoi capire purtroppo è così nella lingua inglese c'è un proverbio che si potrebbe tradurre così sai il gusto del budino solo se lo provi è proprio così quando lo senti per la prima volta 10% quindi se guadagno 1000 euro all'anno 100 euro come può funzionare non ce la farò mai ma se provassi e molte molte persone che vivono questo principio possono raccontare tante esperienze di quanto l'associazione con dio possa essere una benedizione sicuramente tutti avete sentito di colgate si colgate il dentifricio sicuramente lo conoscete non voglio fare pubblicità occulta quando era giovane william colgate penso avesse 16 anni se ricordo bene la storia a 16 anni se ne andò via di casa perché la famiglia era molto povera e non avevano abbastanza fondi dunque se ne andò via in america se ricordo bene a new york e nel viaggio incontrò qualcuno iniziarono a chiacchierare e questo uomo gli diede un consiglio ascolta giovane quando guadagnerai i tuoi primi soldi a new york ricordati di ringraziare restituendo la decima e william continuò il suo viaggio ma tenne a mente il consiglio a new york trovò lavoro in una fabbrica di sapone e guadagnò i suoi primi dollari decise di praticare questo principio e di diventare socio di dio mise da parte la decima e la donò non dopo molto tempo fu promosso sempre più in alto arrivando a occupare un posto di rilievo nell'azienda nel tempo essa divenne di sua proprietà a un certo punto decise di non restituire solo il 10 ma il 20% del suo reddito e la sua azienda si ingrandiva sempre di più le benedizioni aumentavano sempre di più arrivò a restituire il 50% del suo reddito era talmente grato a dio per la sua guida per le sue benedizioni che decise non solo di continuare ma anche di aumentare la condivisione delle benedizioni ricevute è questo il principio trasmettere la benedizione di dio ed essere pronti a ricevere delle benedizioni maggiori che possa nuovamente trasmettere non vivere concentrato su te stesso il quinto punto in questa associazione con dio è le persone sono più importanti delle cose qualcuno ha detto per essere felici non è importante possedere di più ma desiderare di meno io l'ho formulato così non troviamo la vera felicità e la vita compiuta in quello che possediamo ma in quello che siamo disposti ad abbandonare per servire gli altri non troviamo la vera felicità e la vita compiuta in quello che possediamo ma in quello che siamo disposti ad abbandonare per servire gli altri e Gesù Cristo in questo è il nostro più grande esempio nella Bibbia c'è scritto il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire in Filippesi 2 possiamo leggere che Gesù pur essendo uguale a dio si abbassò non ha considerato questo come qualcosa a cui aggrapparsi ma fu pronto a rinunciare a tutto ad abbandonare l'adorazione degli angeli e venire su questa terra contaminata dal peccato ad abbandonare tutto perché per salvarci senza noi al suo fianco il cielo per lui non aveva più valore tutto quanto non contava più nulla paragonato al suo sacrificio che avrebbe aperto la porta verso la vita eterna per l'umanità leggiamo insieme questo versetto in ebrei 12 ebrei 12 uno dei libri del nuovo testamento i versetti 2 e 3 tenendo gli occhi su Gesù autore e compitore della nostra fede il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce disprezzando il vituperio e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei piccatori affinché non vi stanchiate e veniate meno qui c'è scritto Gesù ha preso tutto su di sé perché sapeva che tramite la sua morte si potevano salvare milioni di persone per l'eternità ha abbandonato tutto la completa adorazione degli angeli del cielo niente era così importante quanto noi uomini per Dio le persone sono più importanti delle cose in Giovanni 3 versetto 16 c'è scritto poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna Lui ci ama talmente tanto da dare la vita per noi e ci esorta a trasmettere questo amore ad altre persone per Lui la persona ha il più grande valore le persone che devono essere salvate che sono alla ricerca di un senso che hanno bisogno di una vita colma e di una speranza che va oltre la vita la persona ha il più grande valore una volta compreso e sperimentato cosa significa essere amati da Dio penso che non sarà possibile tacere questo amore cosa vuol dire avere speranza cosa vuol dire avere delle prospettive migliori questo non lo posso tenere per me questo lo voglio trasmettere dobbiamo vivere da amministratori fedeli di Dio questa partnership con Dio e anche trasmettere il suo amore Gesù dice tutte le volte che l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli l'avete fatto a me significa che non basta solamente parlare ma parlare e agire rivolgersi verso l'altro impegnarsi personalmente per gli altri per poter trasmettere la benedizione di Dio il sesto punto aspettati grandi cose da un Dio grande qui stiamo parlando di Gesù il re assoluto dell'universo e possiamo avere totale fiducia che realizzerà tutto nel modo migliore per noi Dio ha la visione complessiva sulla nostra vita e vede la nostra vita sempre dalla prospettiva della meta lui sa di cosa abbiamo bisogno lui conosce tutte le situazioni in Efesini 3 c'è scritto ora colui che può secondo la potenza che opera in noi fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo posso presentare tutto a lui lui si prenderà cura di ogni cosa niente è troppo piccolo per lui niente è troppo grande per lui nulla di cui non possa prendersi cura e per quanto lo conosco lui fa il miracolo di trasformare un peccatore in un vincitore tanto è grande la sua potenza come abbiamo appena letto talmente grande è la potenza che opera in noi posso portare tutto a Dio posso parlare con lui di tutto e lui è molto più vicino a noi di quanto io possa pensare non importa quali problemi e sfide affrontiamo a prescindere da come ci sentiamo e a che punto siamo arrivati nella nostra vita egli c'è e ci accetta ci dice voglio essere tuo socio ti voglio trasmettere queste benedizioni e voglio che tu le possa inoltrare agli altri e se fate caso in tutto quello che abbiamo detto non si tratta di non avere più problemi di aver risolto tutto si tratta di dare gloria al suo nome che egli sia elevato che sia celebrato che sia lodato parlando ai suoi discepoli Gesù disse attenzione lo potete leggere in Giovanni 14 attenzione tutto quello che chiedete nel mio nome io ve lo darò e poi aggiunge affinché il padre sia glorificato nel figlio quando Dio risponde alle nostre preghiere quando Gesù risponde alle nostre preghiere non lo fa solo per rispondere alle nostre necessità e alle nostre richieste di preghiera sicuramente anche per questo nel suo amore pensa anche a noi ma nello stesso tempo lui vuole che Dio padre sia elevato che il suo nome sia glorificato la lode l'onore deve ritornare al proprietario e non all'amministratore lui è il proprietario della mia vita io vivo solamente per il suo onore e la lode deve tornare a lui il sesto punto datti da fare la benedizione di Dio non arriva mai per sostenere la nostra pigrizia o la nostra comodità quindi che mi sieda in poltrona e pensi tanto Dio pensa a tutto farà tutto Dio ricordate che noi dobbiamo moltiplicare le benedizioni che egli ci elargisce in proverbi 13 c'è scritto l'anima del pigro desidera e non annulla ma l'anima dei solerti sarà pienamente soddisfatta anche Gesù ne parla nella parabola dei talenti affidati potete leggerla con calma a casa Matteo 25 i versetti da 14 a 30 qui ci insegna che siamo responsabili di quello che Dio ci offre perché possa essere moltiplicato che dobbiamo operare secondo la sua volontà con ciò che egli ci dona per aumentare la benedizione e che gli altri ne possano beneficiare una bimba disse contenta alla sua amica vado a comprare un regalo di compleanno a mio papà e l'amica chiese da dove hai preso i soldi beh dal mio papà proprio così succede anche a noi quello che possiamo trasmettere non appartiene a noi ma diamo solo quanto abbiamo prima ricevuto da Dio è questa la partnership che Dio vuole vivere con noi in primo Pietro 5 e il versetto 7 c'è scritto gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine perché Egli ha cura di voi Dio c'è Lui è il Padre amorevole Lui si prende cura di noi con Lui non siamo mai abbandonati vuoi diventare socio di Dio per gratitudine verso di Lui vuoi davvero mettere sempre Dio al primo posto in tutti gli aspetti della tua vita è una decisione che ti porterà la grande avventura delle benedizioni e ti aiuterà a portare gli altri a vivere questa avventura ti voglio incoraggiare ad accettare questa sfida inizia a metterla in pratica e potrai vedere come Dio nella sua bontà nel suo amore e nella sua fedeltà mantiene la sua parola Alziamoci per pregare insieme Padre nostro in cielo solo per la tua grazia siamo quelli che siamo grazie al tuo amore alla tua carità alla tua misericordia abbiamo la benedizione di poter vivere la nostra vita grazie dell'invito a vivere pienamente questa benedizione signore vogliamo aprirti la nostra vita in segno di gratitudine per te vogliamo iniziare questa avventura di vivere le tue benedizioni e di trasmettere le tue benedizioni signore aprici gli occhi quando a volte abbiamo un'immagine sbagliata di te quando non riusciamo a vederti come un padre misericordioso amorevole ma guardiamo noi stessi ci concentriamo su noi stessi e sui nostri pensieri egoistici ti prego aiutaci a ricevere un nuovo sguardo sulla nostra vita e su quanto tu ti aspetti da noi che possiamo offrirti in tutto il migliore e il primo posto che possiamo essere degli amministratori fedeli della tua proprietà in tutte le cose che abbiamo e in tutto quello che siamo ti ringraziamo per questo benedici ognuno di noi nella pratica di quello che abbiamo imparato questa sera aiutaci ad avanzare con fiducia che la tua parola è verità e che tu ancora oggi mantieni la tua parola Amen